Un aereo pieno di eroina. Non sono forte con la matematica, ma con un aereo pieno di eroina escono un sacco di soldi. Ma soldi veri proprio. Dite quello che volete, li paga il Min. Ma sul ricometro è in zona Tony Montana. Ha il senso del business di Walter White. Mi chiedo se i dittatori cerchino di impressionarsi a vicenda, come i vicini di casa. La vita deve... I soldati hanno distrutto il mio campo. Ma non possono rovinare il pallone. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Salmi 23, versetto 4. Che bello rivederti, Ajai! Sei qui per il volere del Signore? Immagino di sì. Ho una confessione da farti, Ajai. Io temo il male. Non parlo del male dell'uomo, perché quello si gestisce. No, temo il male dentro me stesso. Ricordi i miei peccati? Gli orribili affari che ti dicevo? Stai parlando di diamanti, giusto? Sì. E il sangue dell'agnello lava tutti i peccati. Ma per purificarmi, devo pentirmi e fare un atto di contrizione. Ci sono altri peccati simili qui, Akirat. Devono essere trovati. Inizia a cercare una pecorella smarrita. Seguila e ti porterà a un cavù. Portami ciò che contiene. Ok. E chiamò insieme gli amici e i vicini e disse, gioite con me, perché trovai la pecora mia, quella perduta. E chiamò insieme gli amici. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.